e buongiorno benvenuti a questo nuovo episodio di my one indie dove rispondo a una domanda che nessuno mi ha fatto nel modo in cui nessuno mi ha chiesto ovvero siccome nel 2024 riuscire la nuova e a sentire wizard of the coast nuova edizione di dungeons and dragon ovvero one indie io mi sono quello che vorrei dire la domanda che vorrei rispondere quella che nessuno mi ha fatto in questa serie come affronterei io le classi che è uno dei pilastri portanti di dungeons and dragon come l'affronterà io se dovessi appunto crearli per una nuova edizione che dovrà uscire nel 2024 e quali sono i metodi per la quale sulla quale mi baso nel migliorare o comunque modificare le classi già presenti in dungeons and dragon semplicemente seguendo due punti cardine il primo molto semplice penso abbastanza palese seguendo le direttive di wizard of the coast alla fine come si suol dire il gioco è il loro in culi cioè nel senso alla fine devi seguire le regole che vogliono loro e quali sono sono due o almeno io pensavo fossero due in realtà è uno solo e l'altro me lo sono inventato a quanto pare ovvero la prima è seguire l'ossatura la struttura l'architettura prendetela come vi pare nell'edizione precedente ovvero la quinta edizione quindi i tiri salvezza messi cioè i 6 tiri salvezza basato sulle caratteristiche bonus competenza 20 livelli il vari modi di vita il riposo breve riposo lungo le competenze con le armature armi che sono fatti in quel modo le abilità che seguono comunque la lista della quinta edizione meno male grazie a dio la seconda che pensavo fosse in diretta ma palese a quanto pare non così tanto ovvero siccome prima un'arte d'arcana che hanno fatto uscire prima del cane ha detto intendo una sorta di beta test non una sorta è una beta test che quelli di wizard si divertono a chiamare in un modo da tutto loro appunto avevano dato uno spessore veramente forte e incisivo al background che per sua stessa natura è là dove risiede praticamente il role play del tuo personaggio quando lo crei diciamo ma e ci saluti quando quindi dicevo dopo che ovviamente la prima scritta certa che trovo è di un bot di spamming bello ogni tanto stare su twitch dicevo appunto visto che dal primo un'arte d'arcana sembrava che volessero dare una spinta maggiore nell'ecosistema di gioco quindi non lasciato al alla volontà dei giocatori ma che abbia un vero e proprio peso nel regolamento quindi volessero spingere un altro pochetto il carretto di dungeons dragon verso la maggior peso al role play anch'io pensavo appunto di fare lo stesso anche con le classi introducendo quella cosa che ho praticamente chiamato aggancio al background ovvero quella sorta di spazio che c'è tra il background appunto che ti sei scelto nella creazione di personaggio e il la sessione 0 la sessione 1 della campagna ovviamente sembra la fate di livello 1 però per capisire come sei partito a essere un chiarico un guerriero un monaco un ranger e così via quindi diciamo fare una sorta di mini background anche per le classi a quanto pare visto che nel momento stesso che sto registrando cioè sto registrando stop facendo questa live è uscito anche il secondo un'arte d'arcana che se ve lo siete persi c'è una playlist apposta sempre anche sul canale youtube o sul past qui su twitch che appunto mostra le prime tre classi della natte d'arcana di ovvero il bardo il ranger e il ladro dove li dico tutto quello che c'è da dire non voglio togliere spazio a parte il fatto che hanno praticamente spinto hanno detto forse si è spinto troppo con background torniamo indietro con le classi perché sì quindi scemo io che ci avevo sperato scemo io qui non posso dire però ormai la via me la sono tracciata e io me la porta avanti poi poi lì al massimo comunque visto che one dnd ha detta anche di quelli della wizard of the coast è liberamente cioè potete avere potete giocarci tutte le manuali di ambientazione di avventure della quinta edizione proprio perché è intescambiabile quindi ciò non mi toglie il fatto che per esempio a me il ladro che ho fatto io mi piace di più di quello che hanno fatto loro e oddio più o meno sono uguali e l'idea che mi hanno fatto io del bardo che poi faremo sicuramente non sarà quello perché assolutamente no figuriamoci il ranger perché vabbè metto un'altra pieda sopra ma detto questo oggi appunto come vedete dal titolo e fa un'ennesima premessa che faccio ma è giusto così oggi oggi parliamo del chierico ok so che quelli di wizard of the coast hanno cambiato le carte in tavola ma ciò non toglie che comunque la sua divisione che abbiamo seguito fino ad oggi non solo è più che valida ma in realtà cambia veramente poco rispetto a quello che hanno fatto loro ovvero io ho diviso le classi i due sottogruppi il primo è se una classe marziale una classe divina una classe arcana o una classe primordiale loro hanno fatto un po più un pastone da per quanto riguarda la roba le classiche custom incantesimi ma alla fine sempre quelli siamo c'è davvero c'è proprio letteralmente hanno fatto un po un pastrocchio io continuerò a usare queste quattro categorie perché sono molto più facile da capire molto più intuitive e onestamente creano meno casini anche per una localizzazione in altre lingue quindi oltre a questo c'è anche la sottocategoria del del ruolo della classe all'interno sia soprattutto del combattimento vi sei considerato che per quanto si possa spingere sul roleplay dungeons dragon comunque come viene detto in modo ironico è comunque un gioco di ruolo dove di base c'è semena e c'è semena di brutto quindi ci si può girare intorno quando vi pare ma comunque andremo a lanciare iniziativa e a menare gente quindi è importante sapere qual è il tuo ruolo in quello che occupa almeno i tre quarti di ogni manuale di dungeons dragon quindi questi ruoli sono principalmente tre il primo è e anche più il primo è anche più facilmente capibile è il dps ovvero quelle classi cui unico scopo è fare il maggior danno possibile quelle tipiche classi che attacco alto difesa bassa cioè i glass cannon come le volete chiamare quelli che fondamentalmente il loro compito è fare un botto di danni la seconda categoria invece che è l'esatto opposto ovvero sono i tank che sono quelli che devono attare l'attenzione dei nemici in modo tale che attirino su di loro appunto i colpi che possono incassare più o meno facilità in modo tale che quelli che fanno danno possono diciamo fare quello che devono fare senza troppi rischi la terza categoria che è un po più generale c'è un po più come si dice eterogenea ma comunque abbassa anche quella abbastanza capibile è la categoria dei supporter che supporte sono letteralmente quelli che o danno vantaggi aiuti ai propri alleati o svantaggi e malus ai loro nemici e questi vantaggi siano cure e quindi siano dei curatori tipo appunto il chierico o che siano letteralmente creare terreni difficili creare zone d'ombra creare dare maledizione nemici cambia poco il risultato è che il loro compito non è necessariamente quello di stare in prima linea sul campo di battaglia questo non esclude che devono menare anche loro che loro compito principale non è proprio quello di essere in prima linea nella battaglia ma far sì che i tank e dps possono svolgere il loro compito nel modo più efficace possibile solitamente per esempio un leader sul campo di battaglia è un supporter è uno che con il suo carisma supporta i suoi alleati un curatore è un supporter perché fa sì che i tank o comunque i suoi alleati possono stare il maggior tempo possibile sul campo di battaglia nonostante le ferite che prendano giusto per fare degli esempi infatti noi di supporter abbiamo già visto per esempio il druido abbiamo già visto per esempio il guerriero il guerriero per esempio il supporter perché il suo ruolo è far sì che i nemici vengono dirottati verso i tank e lasciano in pace i dps il suo compito è quello letteralmente di arginare le avanzate dei nemici per direzionarli dove meglio che siano giusto per internerci il chiarico ovviamente non lo sto per non dovrei neanche starlo a dire ovviamente il suo ruolo è quello del supporter quello più di tutti dovrebbe essere il supporter iler ovvero quello che cura i suoi alleati ora prima che chi guardi questa live o guardi questo video su youtube magari se la faccia prendere a male allora ragazzi il chierico nella quinta edizione ed è purtroppo un lascito che andando avanti nell'edizione si è fatto sempre più sentire tanto da arrivare a una quinta edizione che è quasi la barzelletta di se stesso ha delle piccole criticità perché per quanto come incantatore sia indubbiamente fortissimo cioè ragazzi nella 3.5 molti dicevano il mago è rotto il mago fa ragà voi non avete idea delle porcate che ti poteva fare il chierico il chierico anche a livelli bassi poteva tirarti fuori dei bonus e dei malus dal cilindro che che il master facevo cioè nella sua mente c'era solamente di provare a vedere se emulare la scena di joffrey fosse un bel espediente narrativo cioè per far capire che era completamente fuori di capoccia ecco sì è vero infatti anche nella quinta edizione si come si dice si riscrive di nuovo come un caster puro quindi arriva tranquillamente ad usare gli incantesimi dal loro livello quindi non è come una sorta di pallavino warlock o ranger che quindi è un semi incantatore ma esattamente come uno stregone un bardo uno stregone un druido mago e un druido è esattamente un caster tra l'altro è l'unico caster divino puro ecco ha solo due criticità ripeto so che potrebbero piacere questa cosa ma io adoro queste piccole chicche storiche di nel gioco di ruolo il chierico nasce sin da scatola rossa ma era una cosa fondamentalmente diversa ovvero il chierico incominciava a imparare i micantesimi dal secondo livello nemmeno dal primo fatti al secondo livello imparava mi pare un cura ferite giusto per far capire che in realtà nella mente di chi aveva creato il chierico al inizio dei tempi aveva sì pensato a un ruolo di qualcuno che letteralmente ti cura ma che era qualcosa più una quasi una variante di un guerriero infatti al primo livello non c'era letteralmente nessuna differenza tra un chierico e un guerriero nessuna al primo livello erano esattamente identici al secondo livello già cambia perché chierico si prendeva il cura ferite ma al primo no già ti fa capire qual era il la forma mentis in originale questo è andato subito in scontro nella seconda edizione visto che appunto il chierico gli è stato subito dato la lista degli incantesimi divini caster purissimo si inizia da primo esattamente buongiorno suite la controparte del cioè se il mago è diciamo il top tier dei dei caster per quanto riguarda le magie arcane il chierico era il top tier pericaster delle macerie divine tempi le macerie primordiali non esistevano proprio però diciamo erano queste due enormi sfere per quanto riguardava gli incantesimi ovvero da una parte c'era il predominio delle forze elementali del del mago infatti da palle di fuoco fulmini prova del genere vi ricordo che ci si basava tanto sulla versione tolkeniana quindi il mago era quello che cacava fulmini e lo sparava a palle di fuoco dal culo dall'altra avevamo invece tutta la sfera dei dei miracoli divini quindi appunto cure ferite risurrezioni scudi di fede e cazze e mazzi lo spero di sì suite infatti la modificherò a bestia c'hanno solo c'è il problema che però il tierico aveva una declinazione cioè spero di sì perché è fatta bene ma nel motivo va per il motivo sbagliato suite era partito spiego solo che aveva sempre dietro il problema del essere comunque un guerriero e quindi da una parte avevamo un tizio che poteva letteralmente lanciare piogge di meteore con un movimento di un bastone ma poi al fine era praticamente un vecchietto con l'iper tosse che se li soffiavi addosso moriva dall'altra avevamo un tizio che letteralmente poteva aprire portali ed evocare dei planetard dai piani astrali ma comunque in super full plate spada e scudo anzi mazza scudo e letteralmente che ti one shottava demoni come come sgranocchiasse dei mirtilli e te fai c'è una leggera come si dice sbilanciamento in queste due forze c'è uno è strozzo l'altro un po meno non ho capito questo discorso nel corso del tempo wizard ha cercato di mitigare sta cosa dando sempre meno incantesimi offensivi al al chierico ma più in questione di buff debuff ma questa cosa non cambia assolutamente visto e considerato che spesso e volentieri questi buff debuff se non sono al pari della roba che fa il mago spesso e volentieri addirittura sono pure peggio quindi giusto per fare una conclusione arrivando alla quinta edizione così saltando un po di passaggi cioè uno dice vabbè ma il mago ha il dardo incattato e con uno scudo poi toglie il chierico ha lardo tracciante che ti fa comunque un 3 4 di 8 al primo livello e con scudo passa lo stesso devo aggiungere nient'altro giusto per fare quindi una cosa di cui cambierò a cercare di dare appunto un po più di bilanciamento sul discorso che uno è uno diciamo sono esattamente due facce della stessa medaglia un po come lo è lo stesso ruido per capisci ma che appunto nessuno dei tre sia effettivamente sbilanciato dalla 4 di 6 tra l'altro vabbè oddio vabbè a posto di un 3 di 4 più 3 4 di sempre meglio ragione è peggio è meno è meno sgravato dicevo quindi per esempio come state vedendo adesso allora dallo vita gli do un d10 ovvero esattamente come la di ranger e le classi di intermezzo passatemi il termine ovvero quelle che il loro compito non è necessariamente di prendere un sacchio di schiaffi come i tank o comunque essere letteralmente cioè il loro scopo essere letteralmente in bocca ai nemici per farsi ben a ma nemmeno devono essere quelli che per forza o quasi devono stare a distanza perché il meglio che sanno dare è stato lontano dai nemici tra virgolette pensate a un guerriero e pensate un mago cioè le loro posizioni quindi il chiarico sta nel mezzo letteralmente quindi può dare una mano in mischia ma è altrettanto utile a distanza come potrebbe essere appunto un ladro che abbiamo fatto ultimamente che aveva anche lui un d10 quindi passa dal di 8 al di 10 di eccetto monete d'oro per il background competenze dell'armatura nessuna il chiarico e lo sottolineo so che molti mi uccideranno quindi non useranno mai questa cosa mi bruceranno e stile giovanna d'arte sul luogo ma il chiarico non lo voglio vedere con l'armatura vuoi farti un chiarico un'armatura un seguace divino col fervore alzando la tua spada al cielo il nome di una divinità fatti il paladino fatti il paladino il chiarico se guardate qualsiasi porca vacca documento mi c'è storia mitologica anche di stile tolkeniano o andate addirittura a vedere l'iconografia anche medievale sulla quale appunto si basa lo stile fantasy classico il sacerdote non aveva le armature sacerdote aveva una cazzo di tunica ed era già tanto se non prendeva la lembra ogni cinque minuti quindi no non lo voglio vedere con l'armatura allora sono indeciso fra le armature leggere o nessuna armatura personalmente mi vedisco senza armatura perché le armature leggere sono l'armatura di pelle o l'armatura borchiata e comunque non ce lo vedo su un piedico cioè potrei anche mettercelo è l'amor di dio però non c'è allora ci sta ma sicuramente non le armature medie no non lo voglio in mezza armatura non lo voglio con le armature di maglia non lo voglio con l'armatura strisce non lo voglio no armature leggere al massimo stop chiuso poi ora altro tasto dolente andiamo a vedere visto che praticamente tanto le ricambieremo di sana pianta ogni cosa del cherico ve lo già anticipo perché le capacità di del chierico si fermano a questo tutto il resto che avete trovato interessante del vostro chierico è perché al primo livello ottenete questo che quindi non fa parte del chierico ma fa parte della sua specializzazione quindi quando ho sentito smith fa il chierico va bene come va toccato poco no le su specializzazioni vanno bene il chierico di base no comunque ha semplicemente poco e con poco intendo veramente poco ovvero ha gli incantesimi ok poi c'è il dominio divino che la specializzazione e lo mettiamo dalla parte poi a incanalare divinità distruggere non morti che è una variante sempre sul canale divinità e intervento divino basta non ha nient'altro il chierico perché funziona il chierico funziona perché letteralmente non è una classe base il chierico funziona perché letteralmente è una specializzazione voi c'è wizard of the coast con quella che posso definire una delle più grandi mosse della cadrega creata la wizard of the coast non abbiamo mai fatto giocare un chierico in realtà aveva fatto giocare più o meno otto classi diverse spacciando per il chierico ma non avete mai giocato il chierico con mai il sottolino mai ma neanche sottolino mai lo metto in grassetto stampatello maiuscolo e cubitale per renderlo ancora più enfatico quindi quello che vedremo qui è tutta roba di cui me ne dimenticherò alla velocità della luce perché è totalmente inutile quindi innanzitutto tornando al mature leggeri oscudi competenze reali armi semplici competenza nella vita religione perché un cazzo di chierico che non è competente in regione non ha senso allora al primo livello qui ho messo dottrina divina che è quella sorta di aggancio con un caso si chiama col background l'altra che sarà la caratteristica scusate la caratteristica principale della classe ovvero incanalare divinità e la terza che è armatura della fede mi dite ma non c'è niente di di role play allora ah già è vero scusatemi e poi c'è incantesimi scusatemi esatto quello è il role play del vostro personaggio quello mostra la differenza tra un chierico e un altro chierico ovvero la scelta che voi fate nella pool di incantesimi che prendete un chierico che prende fondamentalmente parola guaritrice cura ferite riparare guida è un chierico molto diverso da quello che si prende fiamma sacra dardo tracciante eroismo roba del genere sono due chierici completamente diversi uno impuntato alla guarigione l'altro puntato a farti del male molto fisico perché dnd ha poche armature ma in realtà sì purtroppo fino a quando non lo so allora io ripeto spero 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 e sottolineo spero che non facciano le trugolate della quinta edizione con le specializzazioni messe a cazzo di cane roba messe a cazzo di cane ma so già che sarà tutta a cazzo di cane ovvero in realtà saranno solo a gruppi di classe ovvero se sai che ti sei preso una classe una maestranza del gruppo delle maestranze sai che la classe prestigio la prende al terzo se te la sei fatto combattente magari te lo prenderà il secondo se te lo sei fatto priest te lo prenderà e al primo poi che cacchio c'è e se te lo sei fatto mage magari te lo piglia al secondo come addirittura i guerrieri se li pigliano al quarto per farti capire cioè ho paura di vedere i priest che prendono la specializzazione al primo i caster image che se le piglieranno al secondo gli expert che se le piglieranno al terzo e warrior che se le piglieranno al quarto o addirittura al quinto spero di no spero che le lasciano tutti al terzo livello sì che wizard purtroppo mi abitua a brutte e coscianti sorprese anche quello vero anche lì comunque dicevo non lo so se ti consideri che il mago il warlock il druido ma il warlock lo piglia già il primo no lo piglia il secondo il mago il warlock il druido e il tipo già metà della roba la piglia il secondo cioè per far capire cioè ripeto per come la vedo io è più facile che ti spiego perché i priest i priest secondo me le mettono al primo qui hanno messo come priest il chierico il druido e cazzo non mi ricordo che cazzo ci avevano messo non mi ricordo che era il paladino cosa hanno in comune queste tre classi che sono tutte e tre classi che da un punto di vista rolistico ha molto più senso che la loro specializzazione arrivi da subito perché il chierico impara dal primo livello appunto il dominio divino parte che deve essere già un baciato da un tipo di divinità il paladino ha molto più senso che il suo patto il suo giuramento ce lo abbia dal primo livello ovvero perché è diventato paladino perché appunto si è votato a un giuramento specifico che lo consente di crederci così forte da ottenere poteri il terzo è il druido che lotterà al primo livello perché? perché è sensato che il druido sin dal primo livello abbia la sua specializzazione ovvero quello che ha imparato dal suo circolo druidico quindi così avrebbero molto più senso mettere direttamente quindi al primo livello il discorso del metamorfico il discorso dell'averci compagni animali e così via perché basta quelli dirottati nelle specializzazioni che tanto le avrà comunque al primo livello quindi direttamente se devo fare il druido metamorfico puoi farlo non è il druido è il druido metamorfico che è per lo diverso quindi secondo me è più facile che siano i priest a ottenere i privilegi al primo livello piuttosto che i caster che comunque possono benissimo aspettarlo un livello e tra l'altro quello potrebbe essere la loro marzana idea di controbilanciare il fatto che i caster sono notoriamente più sbroccati ma andiamo avanti allora dottrina divina due abilità strumento eccetera allora tiri salvezza direi costitu... allora costi... costi... anzi quello sicuro è saggezza su quello non ci piove il chierico deve essere competenza e tiri salvezza su saggezza e non c'è cazzi non c'è cazzi da un punto di vista poi secondo me secondariamente potreste... si potrebbe mettere o costi... costituzione o... a seconda eh però qui a me al chierico mi va di dire saggezza e costituzione perché altri tiri salvezza potrebbe esserci carisma ma in realtà un sacerdote non deve essere carismatico deve essere saggio è diverso un sacerdote non deve essere intelligente deve essere saggio è diverso cioè quindi non lo so mettere altri tipi di tiri salvezza questa è la prima volta che non mi viene da consigliare dalle altre eh altri tipi di tiri salvezza perché mentre per altre classi comunque a seconda del... potrebbe averci senso qui il... cioè il chierico è saggezza e costituzione tra l'altro non so se sono le stesse che gli danno anche loro ma saggezza e carisma va bene ehm non ha molto senso perché carisma eh va bene ripeto allora o si fa tipo saggezza o carisma per quelle diciamo sociali e per quelle fisiche io metterei un forzo a costituzione cioè anche se banalmente penso tutti andranno su saggezza e costituzione proprio brutalmente ehm allora come al solito prima scelta sì infatti non ha molto senso saggezza e carisma sarebbe meglio saggezza e costituzione io comunque la possibilità la do magari appunto il tuo ehm chierico ehm è stato più improntato sull'essere una fonte di ispirazione quindi sul carisma piuttosto che l'essere saggio il tuo chierico si è basato molto di più sulle privazioni quindi sulla costituzione o eh addirittura sull'essere un il pugno armato delle divinità quindi forza io nel dubbio la scelta ce la metto poi ognuno è libero di allora tempio hai imparato tutto quello che c'è da sapere sulle divinità che muovono e manipolano il tuo mondo all'interno di uno dei tanti tempi che sono sparsi di ogni angolo del creato qui hai acquisito una conoscenza e conoscenza e una saggezza oddio più che saggezza e consapevolezza tali da poter legare le forze degli dei in piccoli o grandi miracoli passare la vita in un tempio comunque praticare una vita di luce non mi dà proprio l'idea di una persona carismatica vero competenza nell'abilità direi storia e direi medicina non ha molto senso in questo caso sono indeciso tra natura ma proprio da un punto di vista accademico del termine cioè se si considera che gran parte delle divinità sono legate a eventi storici comunque eventi o eventi naturali c'è tipo la la divinità delle delle piante la divinità del mare la divinità del cielo comunque o appunto sapere che in una determinata regione geografica si magari il dio della guerra si chiama in questo modo mentre in un'altra regione si chiama in un altro eccetera quello lo vedo comunque sia storia sia natura che natura vi ricordo in realtà si basa anche la geografia quindi competenza in uno strumento io questo me lo lo sempre direi dove si usano a parte che sono già qui che cazzo sto facendo allora equipaggiamento strumenti strumenti da calligrafo ha senso io vi ricordo cosa fanno di solito sacerdoti nei loro tempi i più sono amanuenzi quindi ci sta da cartografo o da cartografo perché vi ricordo che effettivamente erano sempre stati sacerdoti a essere diciamo i maggiori cultori della scrittura ed erano quelli che letteralmente tramandavano le mappe non scherzo effettivamente è vero spesso e volentieri le grandi mappe che vedete che affrescono molti posi eccetera in realtà sono rappresentazioni monocali di quella roba lì quindi a stasera competenza e netti di salvezza saggezza e costituzione costituzione e come abilità io metterei intuizione divina allora il chierico ad ogni riposo lungo può lanciare con vantaggio un giro di abilità per unità al fine di con l'invita e a quello per lo scopo di no trovare informazioni che se non si può capire male intiro di abilità e allo scopo di ehm 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 mataggio con di abilità di conoscenze rappresenti tipo art ad esempio su arcano pura ehm storia molto semplice il secondo un maestro ehm notta chierico errante sei stato un apprendista o uno studiero di un chierico errante che ti ha condotto in prima persona a mirare i segni dei dei sul 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 perché dire terra ok sul piano da lui hai appreso come indrigliare il volere degli dei così da poterne diventare un giorno il loro nuovo araldo competenza nell'abilità direi no sopravvivenza non direi ehm oddio sono abbastanza indeciso perché qui comunque lui potrebbe dare c'è sopravvivenza ci potrebbe anche stare onestamente no ci sta sicuramente sopravvivenza e come seconda cosa da dire medicina quasi no percezione competenza dello strumento bozza del burista comunque ricordiamoci che è il suo mentore comunque un cuchierico qualcosa c'ha carisma invece che saggezza casmino che io ho scritto in modo del tutto dislessico e forza e come abilità metterei linguista il chierico ha viaggiato a lungo ed ha imparato nuove lingue il personaggio acquista due lingue tra quelle comuni da aggiungere poi l'ultima illuminazione divina durante in un giorno che difficilmente senti che erai hai avuto la tua chiamata alla fede che sia stato per opera di un miracolo di una profezia 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 o di un evento inspiegabile inspiegabile va bene io oggi sono proprio dislessico l'unica cosa certa è che hai risposto prontamente alla fiamata e da quel momento hai votato la tua esistenza alla ricerca del divino che diamo a sé quindi competenza nelle abilità direi medicina medicina e intuizione se intuitivo competenza dello strumento anche qui direi comunque borsa desborista competenza di salvezza saggezza e costituzione anzi no saggezza e forza in realtà e come abilità ma aberto buongiorno cosa stiamo facendo allora banalmente siccome non so se conosci dungeons and dragon nel 2024 uscirà la nuova edizione di dungeons and dragon e siccome io sono una persona che fa le cose così perché è un tipo abbastanza bizzarro ho deciso che come io modificherei le classi presenti nella quinta edizione così da trasportarle nella nuova ovvero un band e di viso è considerato che comunque la base è sempre la quinta edizione per renderle per quanto mi riguarda più giocabili più efficienti sia dal punto di vista di combattimento che di roleplay banalmente riscriviamo le classi e le eventuali specializzazioni in modo tale da renderli non ti dico tutte bilanciate il bilanciamento sia un'utopia impossibile ma almeno che ognuna abbia il suo reale peso abbia il suo ruolo all'interno del gioco a differenza di una quinta edizione dove ci sono alcune classiche diciamo e allora come milica metterei con l'abilità in ispirazione divina ad ogni riposo lungo quando il personaggio utilizza un ispirazione per lanciare un test di 20 se ottiene un valore se ottiene un 20 su quel tiro di dado l'ispirazione non viene non viene spesa normalmente anche se non viene spesa non aveva giocato non ho mai giocato a niente ma mi piacerebbe tantissimo soprattutto saprei non saprei con chi giocare benvenuto nel mio punto oddio in realtà non è vero io so comunque una compagnia al fine settimana però non nascondo che non mi dispiacerebbe riuscire a creare una piccola compagnia di dnd da portare live ma i sogni sono belle e vani per i poveri tucani ma detto questo allora intanto leviamoci incantesimi allora questo io lo copio allora livello 1 e almeno così c'è da scriverlo ogni volta in cadesi il pienico inizia le regole presenti sul manuale del giocatore del quinta edizione del 2000 e che l'unica differenza è che può considerare il proprio scudo che può attraverso un rituale svolto durante un riposo breve quello può far divenire il suo scudo il suo focus divino se il personaggio compie questo rituale imprime su di esso il suo volere divino poi giocatore online il giusto tipo disco si esatto usiamo disco è un sito si appoggia che si chiama roll 20 proprio tutto attaccato dal venti molto semplice molto intuitivo se vuoi vedere più o meno come funziona ciò tutta una serie sul nostro canale youtube che si chiama chance da master che è tutta la scorsa edizione come fatta l'anno scorso dove letteralmente costruisco campagne sul roll 20 quindi magari vedi proprio nel dettaglio che cos'è poi incanalare divinità anzi vabbè livello 1 il chierico per due volte ad ogni riposo lungo può incanalare attraverso il suo focus il volere e la collera e su dei dei intorno a sé quando lo fa come azione standard il chierico il chierico emette un'onda radiosa che colpisce ogni creatura entro 18 metri da sé che non siano dietro una copertura totale o e siano in totale virgola un altro che non siano in grado di vedere il simbolo sacro lo sacro o sono incapacitate se il se la creatura bersaglio è un alleato del chierico ottiene un ammontare i punti perita temporanei pari a metà del anno pari al livello del chierico più più il suo modificatore di saggezza se il bersaglio e ottiene vantaggio al prossimo tiro per colpire se il bersaglio è un nemico del chierico subisce un danno radioso pari al suo livello più il bonus più il modificatore di saggezza ok ok una volta i miti di cui utilizzi il chierico può spendere uno flop in cantesimo esimo di terzo livello o superiore per utilizzarlo nuovamente esimo di cui utilizzi il riposo lungo aumentano fino a a tre al sesto livello fino a quattro all'undicesimo livello fino a cinque al sedicesimo livello di bello mi è dato di terzo livello superiore o ce ne avrebbero poi oddio sono abbastanza deciso di questo di metterci no non ce lo metto ok poi sempre di gallo 1 io faccio la propria armatura della fede se il fierico non indossa nessuna armatura armatura e ma indossa il suo focus divino devo aggiungere il suo modificatore saggezza saggezza alla classe armatura così ha più senso poi il secondo livello allora secondo livello che qui ci avrebbe il suo scacciare che io ho messo semplicemente tutto il sere che ha molto più senso ah giusto questo è di utility anzi no il fierico lo devo pensare comunque come un caster che quindi sono gli incantesimi di essere già da utility quindi preghiera preghiera rivigorente preghiera rigorente rigorente ad ogni riposo lungo durante un riposo breve il fierico può entrare in stato di preghiera e recuperare ammontare ammontare i slot in cantesimi pari alla metà del suo livello apparenzi arrondato per difetto ogni slot costa pari al livello di appartenenza ad esempio un tierico un tierico di livello 7 può ripristinare le slot in cantesimi che possono essere essere o 1 di livello 3 o 1 di livello 2 e 1 di livello 1 1 o 3 slot di primo livello quindi dovrebbe essere abbastanza capibile più o meno è quello che c'è il che è il mago però la versione chiede poi al quinto vediamo un po se potrei mettere l'area divinità ristor ristor divinità ristor il chiarico può usare un utilizzo di canalare divinità per ehm curare ogni alleato come azione standard per curare i suoi alleati per un ammontare totale di punti per vita pari a quattro volte il suo livello da chiarico quando lanciato il locatore decide quale ammontare di per 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 dedicare a ciascun alleato se la cura data supera i punti per massimi massimi la differenza viene convertita e convertita in punti ferita temporanei ora allora perché avesse guardato perché siccome io mi faccio da solo i problemi per chiunque avesse guardato la live di ieri di cui parlavano dell'arte darkana di cui mi lamentavo della esigua capacità del dell'ispirazione bardica che è due volte al giorno e banalmente poco utile visto che si utilizza poco perché appunto si ha paura di utilizzarlo nel momento sbagliato ora se potrebbe venirmi qui a dire ma Mirko ma non stai facendo la stessa cosa con il canalale divinità si ma per un motivo piuttosto diverso nel senso non sono completamente impazzito non non faccio due pesi due misure a caso da una parte abbiamo il bardo ovvero una classe che non è full caster ricordiamocelo e infatti se non mi ricordo male giusto per informazione almeno così giusto per non tirare una cacata no hai ragione anche il bardo è full caster l'hanno fatto full caster il bardo? ok comunque ok anche se full caster comunque ha delle enormi restrizioni comunque per quanto riguarda gli incantesimi visto che prende solo ed unicamente i su quanti scuola di magia? mi pare 3 no 4 divinazione incantamento illusione e trasmutazione che questo già di per sé è una bella come si dice una gran bella limitazione poi vabbè la gira successivamente perché comunque 4 in totale dei suoi arriva a poterle scegliere dove gli pare ma 4 incantesimi non fanno primavera per come si suol dire quindi diciamo si è un caster ma molto molto castrato il chierico questo problema non ce lo ha il chierico ottiene accesso a tutti gli incantesimi della lista divina quindi onestamente non ha questi questi problemi soprattutto se andate a vedere gli effetti in canalare divinità li ho messi appositamente abbastanza diciamo significativi da renda contro bilanciare il fatto che abbia due utilizzi fino praticamente al sesto livello al giorno proprio perché ripeto già da primi livelli un chierico magari faccio un esempio chierico con banalmente 18 a saggezza o 16 dal primo al appunto al quinto livello lui in un'azione standard mettetelo al quinto cioè lui al giorno contro una cosa ad area senza nessun tiro salvezza fa una cosa come nove danni radiosi ad area ripeto la restrizione è che comunque nemici non devono essere né in copertura devono essere in grado di vedere il chierico vero ma comunque è semplicemente un'ondata radiosa che prende comunque quindi sono nove danni non sono tantissimi ma sono danni ad area che questo spredda così ad cazzum e quindi è giusto che ne abbia due soli al giorno proprio perché deve essere un come se sul dire una manifestazione divina questa in questo incanalare divinità poi comunque arriva ad averne fino a 5 il giorno e comunque diventano al sedicesimo che comunque sono abbastanza ripeto deve essere un qualcosa che di roleplay che quindi punto alza il tuo scudo il tuo simbolo sacro al cielo invochi i tuoi dei e questo che è tipo una bolla dorata intorno a sé che rinvigorisce i tuoi alleati e ustiona i tuoi nemici è figo ma se lo fai a manetta considerando ripeto che il chierico ha già gli incantesimi che fanno comunque il loro porco lavoro e lo fanno in modo eccellente e ne casta abbastanza cioè comunque arriva ad avere un numero abbastanza elevato di incantesimi rispetto al al bardo comunque a un trucchetto in più per esempio un tau via cioè detto questo ripeto lascio due al giorno proprio per questo modo qui quindi soprattutto poi considerando anche min max cioè minimo arriva a fare ad aria ricordo ad aria al primo livello con un tranquillissimo sedice a saggezza 4 danni che comunque potrebbero letteralmente uccidere un intero storbo di stronze che vi vengono addosso giusto per fino a un massimo livello dal 20 con 20 di saggezza fare 25 danni ad aria se te lo metto che te lo utilizzi due volte ad incontro banalmente il resto dei tuoi alleati non serve quindi te lo metto due volte al giorno perché deve essere necessariamente fatto soprattutto per il combattimento importante in cui tu veramente dimostri la tua fede deve essere un qualcosa che ha un certo peso di incanalare divinità insomma per il resto c'è l'incantesimo ecco cosa voglio dire un qualcosa fatto bene e un qualcosa non fatto bene come appunto l'ispirazione bardica che l'ispirazione bardica è letteralmente l'unica cosa che differenza un bardo da uno stregone a differenza che lo stregone ha la metamagia che può utilizzare molto più spesso un modo molto più efficace con effetti molto più devastanti rispetto a un ti do un d6 su una prova di una prova di un d20 che bello si ricordo che l'uno è sempre dietro l'angolo quindi se tirate uno comunque non lo aiutate comunque per un cazzo e l'ispirazione bardica avete utilizzato lo stesso e ripeto non è c'è se l'ispirazione bardica fosse ok io ti aggiungo al tuo tiro di tuo test di diventi aggiungo il metà del livello del bardo più il modificatore di carisma o banalmente aggiungo no il livello del bardo più il modificatore di carisma quindi passi arrotondato per eccesso quindi passi da un minimo del primo livello di dargli un più 4 se c'è i 16 a carisma più 4 a una prova e 4 è una bella boccia ai livelli più a livelli massimi se c'è carisma 20 al ventesimo livello dai più 14 e lì allora dico ok se me ne dai due volte al giorno ha senso perché letteralmente puoi cambiare fottutamente il corso degli eventi lì ok ma un di 6 ragazzi vi ricordo che l'uno è cioè è probabile quanto il 6 e anzi speso volentieri la media che c'è media che è di 4 non è così scontata quindi giusto per dire non è che date un valore così tanto altino giusto per quindi comunque rimango di questo avviso poi come al solito sono sempre lì prontissimo a tornare nello sui passi ripeto questo poi alla fine è come se fosse una narte d'arcana quindi se volete pretestare questa roba e mi dite no guardami con l'ho pretestato e due volte al giorno soprattutto ai livelli bassi è praticamente giocabile troppo poco non serva un cazzo beh magari dato di un utilizzo più mettete le tre utilizzi cercate di non dargliele troppo che effettivamente come detto anche sweet in più occasioni cioè deve essere un qualcosa che il giocatore deve imparare ad usare cioè non letteralmente caccarlo a caso vero quindi le opzioni sono due o non gliene dai troppi o comunque se gliene dai troppo poco deve essere bilanciato dal fatto che sia un buon bonus un buon effetto poi comunque andiamo avanti al settimo livello quindi entriamo nella seconda fascia ragazzi già vi dico che non esiste lo scacciare rumore per informazione gratuita perché la cosa dello scacciare non morti è una derivazione dalla vecchia roba di dnd che così come il nemico precetto per il ranger nella quinta non ha alcun cazzo di senso e non funziona infatti ho visto diverse giocate con diversi chierici e averlo visto utilizzare lo scacciare non morti e padea 0 si preferisce utilizzare l'incana la divinità per tutt'altro tranne che in quello perché ripeto primo mi fai scappare non morti quindi semplicemente vanno lontano non che non è che non mi riattaccheranno mai più semplicemente andranno in fondo alla stanza quando finisce l'effetto ce ne avrò addosso va che culo al massimo già il distruggere non morti può essere interessante ma al quinto livello non morti di grado si sfida un mezzo tra virgolette già le ammazzi con una schicchera non è proprio il massimo della gioia per capissi quindi me e invece e poi soprattutto ripeto il chierico deve essere un qualcosa cioè questa è la classe base il chierico di base non scaccia in un morti il chierico base è appunto qualcuno che supporta i propri alleati con le proprie dose di proprio doti di miracolose le proie il fatto che può essere un tramite per la magia divina per i miracoli divini ma vi ricordo che non tutte le divinità odiano i non morti non tutte le entità divine ce l'hanno con i non morti non necessariamente quelle malvage sono molte divinità neutrali che banalmente dicono vabbè chi cazzo me ne frega a me se ci sono i non morti cioè cazzo mene vabbè per non parlare delle divinità malvage che appunto ci sarebbe poi tutta la osa del invece che scacciare dominare non moce che quella diventa poi tutto un pastone allucinante quindi no raga sta schifezza del lo scacciare non morto non c'ha senso e non è un caso che i danni che ho messo dell'incanalare divinità siano danni radiosi proprio perché solitamente fanno maggior danno ai non morti comunque seppure in via dire in diretta io l'ho lasciato lo stesso giusto per information poi comunque vediamo cos'altro si può dare al nostro chiericozzo barbozzo con un po di barbossa allora incanalare divinità allora lì l'ho messo di store che per gli alleati ora potrei farne un altro per i nemici giudizio quindi siamo a livello 7 giusto allora allora al livello 7 incanalare divinità giudizio allora il chierico come azione standard può utilizzare un suo incanalare divinità per infliggere un ammontare di danni radiosi su una creatura che si trovi entro 18 metri da lui e che sia in il grado in grado di vedere vedere pari al al doppio del suo livello da chierico più il bonus più il modificatore significatore di saggezza inoltre la creatura deve superare un tiro salvezza su costituzione o essere incapaci o essere incapaci incapaci capacità no no c'era qui dove combattimento condizioni paralizzato paralizzato può essere paralizzata fino alla fine del suo turno successivo ok poi siamo al decimo livello quindi decimo livello io onestamente li metterei attacco extra divino e c'era per l'altro ok ok l'uomo e l'uomo e l'uomo e l'uomo e l'uomo attacco extra divino il chierico come chierico come parte del suo attacco standard può utilizzare un di erasolo usare un vero il tutto l'internativa può lanciare sempre sempre una parte ma già con azione minore sempre come parte del suo attacco standard parola guaritrice o pura ferite pura ferite pura ferite quindi banalmente potreste fare un po' di feeling allora poi al dodicesimo siamo nell'ultima passa diciamo quindi movimento divino il si a livello 12 se non ho letto male giusto? giusto? si movimento divino il tierico come opzione di movimento può creare delle ali e volare alla metà del suo movimento standard e rimanere in volo alla fine tale movimento se il tierico diventa capacità mentre è il volo cade a terra bruscamente certo non sono ali comunque che stanno normali ok poi dal 16 al 20 io direi migliorato quindi 16 in canalare migliorato il tierico ogni volta e lancia il lancio iniziativa ottiene un utilizzo di incanalare divinità nel caso non ne avesse nel caso non ne avesse quindi almeno una volta incontro potete lanciare un canale divinità poi ma cosa già livello 17 ristoro migliorato mi chiedi quando utilizza ristoro come ristoro come effetto di canalare divinità a a me a a a a a Dona un D6 danni radiosi al prossimo tappo che leato implice a un D6. Se il nemico è un non morto, i danni radiosi aumentano a 2 D6. Beh, cura e mentre c'è uno spread ai dannini, che schifo non fa. Poi, livello 18, giudizio finale. Il tierico quando utilizza giudizio come effetto di canalare divinità. Se il... Il grado di sfida del nemico giudicato è inferiore a... A un quinto del livello del tierico. Quando fallisce il tiro salvezza su costituzione. Invece di essere paralizzato è invece incapacitato. Giusto per informazione. Allora, paralizzato... Ah no. Ah, una paralizzata è anche incapacitata. Quindi pensavo fosse peggio, in realtà. Capacitata può effettuare le reazioni o le reazioni. No. Mentre appunto paralizzato... Tutto è questo. Fallisce automaticamente. Tiro. Ok. Invece di essere paralizzato... Invece di essere paralizzato... Viene invece distrutto. Quindi letteralmente lo uccide. Arriva il dio. Il dio gli fa... ZOT! Infatti mi sarebbe... Allora, so che sarebbe una cosa che capirei solamente io. Questo banalmente, invece che giudizio finale, lo avrei chiamato ZOT. Ma siccome è una stronzata che capirei da solo, non mi sembra il caso. Per chi non conoscete questo aneddoto, io parlo di... Sono vecchio. Quindi di tempo fa, non dirò quanto, perché se no mi sentirò ancora più vecchio, giocava a diverse comunità di gioco di ruolo by chat. E in uno di questi c'erano appunto le divinità. Appunto, lì c'era una persona che conosco che appunto faceva una di queste divinità. E appunto era la divinità... Era Udino. E lì appunto era carino, perché c'era questo meme appunto che per ogni cosa che facevi spuntava lui, ti guardava e faceva ZOT! Un fulmio ti colpiva dal cielo e ti uccideva. Quindi banalmente mi è rimasto in mente questo modo di dire che quando qualcuno fa una cazzata o diciamo hai questa voglia rifrenabile di vederlo evaporare perché o ti ha fatto incazzare o per un motivo o per un altro, cioè vorrei ZOTarlo, nel senso fargli uno ZOT, tirargli un fulmio dal cielo e fare sì che il destino faccia il suo corso. Quindi diciamo l'idea alla base è quella. Ora non vorrei che però un quinto del libro... No, oddio, dai ci sta. Dov'è? Non penso sia tanto diverso... Esatto. Lo imparo però effettivamente... No, però così ha poco senso. E che parliamoci chiaro. Può colpire un numero di nemici pari al suo bonus di competenza. Quindi banalmente invece di farlo su uno può arrivare a farne su sei diversi. Ok, poi mentre al 19... Il 19... che dovrebbe essere quello qui... livello 19... avatar divino... il tierico... ottiene immunità ai danni radiosi... e ottiene una velocità di movimento... di volo, scusa, di volo... pari alla sua velocità di movimento. Movi... movimento... Inoltre... inoltre... ogni creatura... alleata... che sia... entro... 9 metri... da lui... la creatura che sia... ottiene... No, aspetta... inoltre... può lanciare... eh... il campesimo guida... senza... eh... la restrizione... senza... nessuna... restrizione... eh... di sorta... dando... così... ad ogni... alleato... apportata... un bonus... di... un D4... alle... di... basta... quindi... allora... eh... ristoro... migliorato... giudizio... finale... e... avatar divino... giusto? avatar divino... giusto? eh... giusto... allora... il tierico... come ho detto sin dall'inizio... il tierico è una classe che... dovete togliervi dalla testa... l'idea del... praticamente... il guerriero... che... tra l'altro ha un plus... cioè... il guerriero plus... eh... con... tutta la fede addosso... perché... in quel caso... se volete farvi un... guerriero... un combattente... eh... con... dalla sua... il fervore divino... o comunque... eh... qualcosa di questo tipo... esiste il paladino... quindi... siccome... wizard l'ha creato... mo so ciuccia... quindi... lasciamo fare al tierico... quello che in realtà... dovrebbe fare il tierico... ovvero... il sascefdote... ovvero... letteralmente... il tizio in tonaca... che ti viene lì... e te casta cura ferite... mentre... nel tempo libero... ti può tirare anche un paio di schiccane... nelle gengive... con una bella mazzata... ma diciamo... non è la cosa principale... che dovrebbe fare... diciamo... punisce... mal... punisce gli eretici... ma... diciamo... anche lì... anche... eh? appunto chiamano sacerdote... il tierico può mettere... tipo quelle classe... prestigio... no... ma lì... comunque la classe... l'hanno chiamata tierico... è poco per dire... il ladro sarebbe da chiamarlo rogue... però ormai... l'hanno chiamato ladro... e mi attacco al cazzo... e rimane ladro... cioè... nel senso... quello non posso cambiare... si si... ha un senso... infatti... anche secondo me... eh... molte... mh... diciamo... traduzioni... derivano da un qualcosa... un po' più infelice... però... ripeto... visto che ormai abbiamo deciso di chiamarlo Chierico... nella localizzazione dell'italiano... da ormai decenni... lasciamolo Chierico... nonostante dovrebbe essere un sacerdote... nonostante... fino ad adesso abbiamo... giocato letteralmente un templare... raga... quello che viene giocato... fino alla quinta edizione... non è un Chierico... è un templare... e... toglietevi dall'idea... i templari... quelli... eh... con lo scudo crociato... quelli sono crociati... i templari... sono letteralmente... i difensori dei templi... quindi... sono letteralmente... la... praticamente lo scudo... la... la forza armata... degli dei... giusto per intenderci... cioè... voi... cioè abbiamo sempre giocato... appunto i templari... non abbiamo mai giocato un Chierico... un Chierico... è quello che... banalmente... è l'unico scudo... che... l'unico... l'unica armatura che dovrebbe avere... appunto è... la sua fede... non una full plate... che guerriero scansati... perché sennò a quel punto... viene anche naturale dire... beh... a questo punto... che cacchio di senso ha... farmi un guerriero... quando ho... praticamente... le stesse difese col Chierico... e... in aggiunta... castro pure in cantesimi... ed è sensato... e infatti è per questo che non l'ho fatto... quindi... partendo dall'inizio... otterrà un D10... proprio perché... allora... piccolo... eh... extra... per il mio One D&D... i dati vita... l'ho diviso in tre categorie... che sono... il D12... per tutte le classi... che devono stare... principalmente in prima linea... vedasi... eh... barbaro... vedasi... guerriero... vedasi... è un... come si dice... quella è una... variazione... che... vi siete voluti voi... diciamo... non è il... eh... il... quadro comune... dato alla classe... poi si può comunque fare... nessuno ti dice di no... ma sarete una variazione sul tema... tra l'altro una variazione che... persino nel tavolo di gioco... all'interno o all'esterno... comunque susciterà delle domande di roleplay... della serie... se io vedo un barbaro... che... non va in mezzo alla mischia... ma letteralmente... lancia asce da lancio... come se non ci fosse un domani... il mio... sia io come giocatore... sia il mio personaggio... due domande gliele farei... faccio... sanno... ho sempre saputo che i barbari adorano... eh... letteralmente farsi... spruzzare il sangue dei nemici in faccia... a mo' di... eh... una sorta... di particolare... eh... pratica erotica... giapponese... ma... con il sangue... quindi... diciamo... mi... ti suscita una stranezza... e... suscita stranezza... proprio perché... è una variazione sul tema... così... stesso discorso... per il guerriero... il... mentre... appunto... eh... questi... verranno dati il D12... che è il dado massimo... secondo me che dovrebbero mettere... visto anche i danni che mediamente fanno i nemici... quindi... un dado danno che ti conserta di... eh... subire... due barra... tre attacchi... eh... senza troppo sforzo... quindi... diciamo... utili... per stare in mezzo alla mischia... il più a lungo possibile... come dovrebbero fare... dall'altro appunto invece abbiamo il... dado appena sotto... il D10... per le cosiddette classi miste... o... eh... comunque... ehm... tutte quelle classi... che... hanno... parità di ruolo... o comunque hanno il suo perché... sia che stiano in mezzo alla mischia... sia che stiano a distanza... un esempio... più... eh... lampante di tutti... è il Ranger... o la lasciate perdere... come è strutturato il Ranger... nella quinta edizione... ma dico... il Ranger... come... archetipo... proprio di classe... il Ranger... come ve lo immaginate... è quello che... o vi viene... con... due lame in mano... a... fare il muninello... in mezzo a nemici... e... poi... fuggire... nelle fronde degli alberi... o è quello che... spunta da dietro un cespuglio... arco in mano... e ti sprecciano un occhio... in stile Legolas... banalmente... prendete Legolas... come immaginazione... lo vedete... sia lanciare con l'arco... con enorme destrezza... sia buttare giù un olifante... con una spada... anche se... ovviamente... quello conta per uno... perché Ghibli ha sempre ragione... ma... a parte... cagate a parte... quello... letteralmente... è quello che intendo... con... una classe mista... come ruolo... all'interno di... visto che... era di vita... vanno sui combattimenti... perché sono... la vita... fuori dal combattimento... lo perdi... con... le trappole... ma lì... cambia poco... ma... dicevo... per tutte quelle classiche... un... un ecosistema... di combattimento... in parti... possono... coprire un ruolo... di prima linea... sia... di retroguardia... senza troppe... ehm... senza troppi problemi... e... appunto... passare... dall'una... all'altra... anche... nello stesso... eh... combattimento... senza troppi problemi... quindi... averci un dado vita... che ti consenta di... mh... subire... almeno un paio di colpi... senza troppi sforzi... ma... che poi ovviamente... nella lunga distanza... ovviamente... c'è... c'è del basso cavaliere... ah... ovviamente... agli altri... che devono... veramente menarsi... molto più duro... diciamo che... a lunga andare... diciamo... il vostro ruolo... in prima linea... si... può essere... comunque sostenuto... ma... diciamo... questo... deve essere... un po' più gestito... andando sempre più avanti... per questo... appunto... eh... si ha il D10... mentre... per tutto il resto... per tutte le classi... che... solitamente... dovrebbero stare a distanza... vedasi... tipo... i caster... i maghi... stregoni... e via discorrendo... che... appunto... dovrebbero stare... a distanza... per esempio... io lì ci metto... anche il bardo... il bardo... io non lo vedo... come tizio... che va a menà... abuso duro... personalmente... quindi magari... anche a lui... mi sa che forse... ieri ho detto... una cosa inversa... però... e soprattutto... perché... non so... cosa... il mio cervello... ha troppe nozioni... di gioco di ruolo... volentieri... fai mischioni... io... avevo... ricordo... che il bardo... fosse un mezzo caster... non un caster completo... quindi... siccome aveva... anche un'altra... pletora di roba... diciamo... aveva... il... diciamo... prendeva... dalle classi... arcane... cioè... dalla lista arcana... ma non arrivasse... a castare anche roba... di nono livello... in realtà... non è vero... che è un caster... purissimo... ergo... stai lontano... soprattutto... peschi... dalla... dalla roba... che... stai meglio... che se sta lontano... detto... ora... ok... ha un po' di limitazioni... vero... però... siccome... quattro incantesimi... deve prendere... da dove ti pare... non hai paura... che gli incantesimi... di attacco... al bardo... non mancano... ehm... senza considerare... che comunque... gli attacchi... c'è... c'è... quindi... per esempio... a un bardo... a un mago... a un stregone... gli darei appunto... un D8... D8... è fatto per resistere... a... un attacco... o... un attacco anche... massimizzato... se ti... se ti va molto di sculo... comunque... io parlo di... attacchi medi... quelle che solitamente... nelle tabelle di mostri... sono messi tra parentesi... a resistere... a un attacco... e basta... nel senso... se il tizio... ti ha attaccato... al turno... quando sarà a te... è il caso del... se vedemo... e scappi lontano... cioè... non è il... ok... vediamo se riesco ad ucciderti... perché magari... comunque... posso reggere un altro round... no... se il nemico ti è arrivato... in mischia... c'è stato un problema... un misunderstanding... nel mezzo... ed è il caso... che tu ti lavavi da coglioni... cioè... è semplicemente... non averci il mago... della... 3.5... con 4 punti ferita... al primo livello... che bastava semplicemente... di... anzi... addirittura... siccome non c'era... che al primo livello... utilizzassi il massimo... ma... appunto... tiravi un D4... ti poteva capitare... il mago... con un punto ferita... che... bastava dirmi... letteralmente... sono al livello... di un contadino patacca... che... se gli viene un raffreddore... muore... cioè... siamo a quei livelli lì... quindi... eh... letteralmente... seguendo questo schema... il chierico... sta ovviamente... nel mezzo... perché... eh... può comunque utilizzare... eh... armi... semplici... anche da mischia... può andare in mischia... eh... alcuni dei suoi incantesimi... comunque sono a distanza ravvicinata... può utilizzare... scudi della fede... altra roba per aumentarsi... classe armature... e roba del genere... quindi comunque... o... fare danni ravvicinati... di un certo tipo... quindi... banalmente... sul... diciamo... distanza ravvicinata... ci può stare... da distanza... non ne parlo nemmeno... c'è... il trucchetto fiamma sacra... la conosciamo tutti... che comunque... fa il suo lavoro... detto questo... li do... certe monete d'oro... eh... oltre a quelle ottenute dal background... per il suo equipaggiamento... che a quanto pare... li ho messa così... a cazzo di cane... ma a quanto pare... per l'ennesima volta... hashtag... i fratellozzi... avevano ragione... perché questa cosa... l'ha utilizzata... in pieno... anche Wizard of the Coast... anzi... addirittura... magari io sono stato... un po' più di manica larga... proprio per esempio... se ho fatto da... lasciare un po' più di monete... di partenza... ai giocatori... perché non è così... necessariamente detto... che poi ne ottengano... andando avanti... più o meno... io per esempio... col monaco... con cui ho fatto... ho una cosa come... 3.000 monete d'argento... ma... eh... letteralmente... il mio monaco... caga... caga argento... come se ci posso... domani... ma lì perché... ho un monaco... molto sbarazzino... che... fa... diciamo... incetta dei soldi altrui... mentre gli altri... si fanno i cazzi suoi... diciamo... eh... sono più simile... a un fratak... come... come il personaggio... una serie... siiii... voi fate finta... che io non ci sono... nel frattempo... mi... mi tengo tutti i soldi possibili... ehm... vabbè... digressioni a parte... appunto... eh... certo monete d'oro... competenze armature... e qui vengono... eh... vengono appunto... i nodi aperti... innanzitutto... per... io addirittura... all'inizio... le avevo tolto direttamente le armature... però mi sono detto... effettivamente... pensando a... eh... pseudo inquisitori... eh... pseudo... eh... cioè... considerando che comunque... sai di dove andare... all'avventura... eccetera... e... un minimo di addestramento... in effetti... ce l'hai... eh... siiii... effettivamente... l'arma... anche da... l'armatore leggeri... ha un... un po' di senso... e scudi... competenze nelle armi... armi semplici... attacca a cappero... e... eh... competenze nelle abilità... religione... perché un... che erico... che non ha competenze... religione... non ha ragione... di esistere... eh... al primo livello... ovviamente abbiamo... il gancio di background... che in questo caso... si chiama... dottrina divina... eh... stesso... procedimento... con... come... con quell'altro... i tre esempi... che poi banalmente... ragazzi... io i tre esempi... che metto... di solito... quello... con... ho imparato... in una comunità... ho imparato... da un maestro singolo... ho imparato... da solo... utilizzo... queste... tre cose... perché sono... diciamo... tre macro... categorie... in cui dentro ci puoi... letteralmente... infilare... il 90%... dei background... che un... giocatore può creare... poi ovvio... come anche scritto sopra... potete farveli... i vostri addestramenti... personalizzati... nessuno... ve lo vieta... nessuno... vi dice che magari potete... scegliere... quello del tempio... ma invece di averci... storia e natura... ne scegliete altri due... se non vi interessa... quegli strumenti... ne scegliete un altro... se... e cambiare... letteralmente... tutta la roba sotto... nessuno ve lo vieta... sono semplicemente... tracce e consigli... cioè... raga... niente di più... niente di meno... appunto... io... i tre esempi... che prima appunto... ha imparato nel tempio... che vi dà... soprattutto... una cosa interessante qui... visto e considerato... che sembra averlo... averlo tolto... dal background... a meno che... magari era... solo un'aggiunta... quindi... comunque la roba che c'era... nella quinta edizione... comunque rimane... cioè... quella... sottospecie di... abilità unica... derivante dal background... visto che... non ce l'ho vista... riproporla... semplicemente... l'ho traslata... nella classe... che ha anche senso... e... per quello del tempio... al fatto che... una volta al giorno... la c'è... un vantaggio... un tiro ed abilità... sulle conoscenze... che può essere... una pura storia... la religione... proprio perché... studi... che hai fatto... nel tempio... un'intuizione divina... che ci sta... mentre... il secondo... con un chiarico errante... appunto... il maestro singolo... che... ti ha... cosato... e... vi dà appunto... linguista... il fatto di essere viaggiato... di aver sentato... letteralmente... a contatto... con diverse culture... vi fa guadagnare... due nuove lingue... ehm... tra quelle comuni... tipo... se avete scelto... se avete il comune... l'erfico... potete aggiungervi... il nano... l'ognomico... l'ognomico? e quel linguaggio... dell'ignomico... per esempio... tranquillamente... assenso... il terzo... invece... ovviamente... quello singolo... l'illuminazione divina... ovvero... letteralmente... avete avuto la chiamata... delle divinità... e siete partiti... a cazzo duro... e ci avete appunto... ispirazione divina... ovvero... ogni volta che voi lanciate... il vostro dado di ispirazione... una volta... per riposo lungo... se quando lanciate... quel dado di ispirazione... fate eventi... funziona... normale... ma... è come se non l'avesse speso... praticamente... vi lo da... gratuito... quindi... vi rimane ispirazione... nonostante l'avete utilizzato... ci sta... poi... al primo livello... imparerete... ovviamente... a lanciare gli incantesimi... che... prende... quello della quinta edizione... o... addirittura... quella della... dell'anarte ed arcana... mi è piaciuto... però siccome... non sapendo... se... le regole che ho visto... sul ranger... e sul bardo... vogliono applicare anche... agli altri caster... spero di sì... eh... però... c'è sempre... il discorso del tierico... del mago... è sempre un po' complicato... io mi attengo... al manuale della quinta edizione... base del 2014... quindi... per... slot di incantesimi... li... eh... gli incantesimi preparati... gli incantesimi che conoscete... super... dal primo livello superiore... rimarranno... rimangono uguali... a quello della... predizione... l'incantatore rituale... eccetera... l'unica cosa in più... è che... voi durante un riposo breve... potete svolgere un piccolo rituale... per far divenire il vostro scudo... volendo... il vostro focus divino... perché ho fatto questo... perché letteralmente... fa figo... e soprattutto... anche da un punto di vista... ruolistico... e concettuale... ha senso che un chierico... scudo e mazza... effettivamente... cioè... il simbolo sacro... infatti spesso e volentieri... l'ho visto fare con... escamotage... tipo... c'ho un amuleto... quindi lo tiro su... mentre c'ho una mazza in mano... tipo il rosaria... intorno al polso... che quindi comunque... posso anche... imbracciare le due armi... onde evitare di... dover... dare al giocatore... 12.000 escamotage... diversi... per avere un focus... che non... letteralmente... non ti caghi il cazzo... che devi... lasciare un'arma... o lo scudo... per tirarlo su... poi letteralmente... trasformare il tuo scudo... che poi... sarebbe figo... di roleplay... quello ovviamente... un'opzione... non l'ho messo lì... a libera interpretazione... del giocatore... per esempio... appunto che... venga inciso sopra... come a fuoco... magari il simbolo... della divinità... che poi magari... sceglierai... per esempio... ma... lì... è interpretazione... poi... ripeto... quella è l'unica cosa... che secondo me... faceva figo... perché ha più senso... che... a differenza di un mago... come il mago... appunto... c'ha la bacchetta... come... può essere... come il focus... per esempio... che il carico abbia lo scudo... cioè... secondo me... ha... quel suo corrispettivo esatto... parete anche in canale divinità... ed ecco... da qui ragazzi... prendete quello che avete visto del chierico... dimenticatevelo... perché il chierico base... e ragazzi... oggi affrontiamo... solo... ed unicamente... la classe base... scordatevelo quello della quinta edizione... per un motivo abbastanza semplice... primo... innanzitutto la specializzazione... come per tutte le altre classi... non la prima... ma la terza... quindi... banalmente... come ho già detto a inizio live... voi fino adesso... non avete giocato mai un chierico... avete giocato solo la specializzazione del chierico... quindi voi avete giocato... dodici classi diverse... tranne il chierico... che quindi... lascia il tempo che trova... dall'altro appunto... la classe base del chierico... ha letteralmente... tre cose in croce... di cui... una è una variazione... di... sempre di incanare divinità... e vi posso assicurare che... fanno cacare... tutte e tre... ecco... visto che sono abilità... del tutto inutili... del tutto fuffa... sia di roleplay... sia di utilità... sia di senso logico... ho deciso... tengo il concetto... di incanare divinità... che è quello... il concetto... ha senso... ma lo rendo... effettivamente... sia di roleplay... sia di utili... effettiva... meccanica di gioco... che abbia anche solo... allontanamente un senso... ora... come cambia... il chiarico... due volte a riposo lungo... quindi due volte al giorno... poi incanare... attraverso il suo focus... quindi anche lo scuro vendo... il volere... la qualità delle idee intorno a sé... con azione standard... il chiarico emette... un'onda rabiosa... che colpisce... ogni creatura... entro 18 metri da sé... che non siano dietro... la copertura totale... che non si... che... siano... che... ehm... che siano... in grado di vedere... simbolo sacro... o non sono incapacitate... se la creatura del bersaglio... è un alleato... del chiarico... ottiene una montagna... di punti ferita temporali... pari al livello del chiarico... più il suo modificatore... di saggezza... e attiene vantaggio... al prossimo tiro... per colpire... se il bersaglio... è un nemico del chiarico... subisce... un danno radioso... pari al suo livello... più il modificatore... di saggezza... e... ottiene... svantaggio... al prossimo tiro... per colpire... quello non so... quindi... banalmente... sull'area di... del combattimento... fate questa... onda d'urto... che... rinvigorisce... e ricarica... i vostri alleati... e... che... pudisce... i vostri nemici... e... visto l'ammontare... della roba che fa... gli ho dato due volte al giorno... come spiegato... durante la live... visto che... è... un... un effetto... piuttosto... ciccione... li ho dato... due volte al giorno... che però... aumentano al terzo livello... tre volte al giorno... all'undicesima... quattro volte al giorno... fino al sedicesimo livello... che ne avete cinque volte al giorno... che sono comunque tantini... cioè... però... al sedicesimo livello... ripeto... entrate in quella fascia di livelli... in cui poi... alla fine... dovrete... scornarvi con roba... che non ha... alcun senso logico di esistere... che... letteralmente hanno... 800 punti vita... ehm... con... una schiccara... mi fanno... 120 danni... e quindi... letteralmente... sparaglielo un paio di volte... schifo... non fa... giusto per... ehm... dicevo... al primo livello... ottiene anche armatura della fede... qui giustamente... perché sono... un uomo di merda... e quindi... della serie... io te l'ho dato la... come si dice... la competenza delle armature leggere... sei sicuro di voler utilizzare... le armature leggere? perché... se il chiarico... non indossa nessuna armatura... ma indossa il suo focus divino... quindi lo scudo... va... va sempre bene... può aggiungere... il suo modificatore di saggezza... alla classe armatura... beh no... cioè... palesemente... Dio vede... provvede... nel senso che... sarà proprio la sua fede... a farli letteralmente da scudo... contro gli attacchi... quindi fare in modo che... il nemico... affondi... quel tanto che basta... per non colpirti... o... appunto... metta il piede... non esattamente... al punto giusto... così da non... avere il giusto appoggio... e quindi... ehm... tirare un fendente... meno preciso... e darti la capacità di schivare... roba del genere... questo... vuol dire... averci un'armatura della fede... ovvero... avere una classe armatura... derivante... semplicemente dal... tuo crederci duro... negli dèi... e gli dèi fanno... sui bravo... e ti danno una pacca sulla schiena... e ti aumentano la classe armatura... ehm... perché questo fanno gli dèi... cittano come le merde... ehm... quindi... banalmente potete decidere se... ehm... continuare ad osservare armature leggere... che comunque... cioè... ci pensate... arrivate ad avere un bonus di più due... alla classe armatura... ed essendo oggetti... possono essere oggetti incantati... migliorabili magicamente... eccetera eccetera... quindi... comunque... diciamo... è un buon compromesso... se da una parte avrete... ovviamente... soprattutto a livelli bassi... una saggezza... molto più alta... di quanto vi potrebbe dare un'armatura... successivamente... così non è... ragazzi... banalmente... potete trovare un'armatura di livello più... cioè... un'armatura più 5... e quindi... banalmente vi darà più classe armatura quella... che della vostra saggezza... per dire... quindi... in più potrebbe averci altre 3.000 effetti collaterali... poi... ok... nessuno toglie al... al master di farvi anche le tuniche... magiche... ma quello è un altro discorso... detto questo... nel senso... è un buon... scambio anche di roleplay... appunto... vedere un sacerdote... che... va a giro... semplicemente... con... abiti umili... una sorta di... quasi di frate... eh... con... semplicemente... un... una veste molto semplice... essere comunque capace... di... entrare in combattimento... proprio perché... questa fede... devierà i suoi colpi... anzi... ve la butto lì... piccole spruzzate di consigli da master... ai giocatori... banalmente potreste giocarvi... se volete utilizzare l'armatura della fede... è proprio il fatto che... ogni volta che verrete colpiti... è una punizione del vostro dio... perché avete sbagliato qualcosa... quindi farvi una sorta di quasi... flagellante... involontario... quindi magari ogni volta che venite colpiti... alla fine del combattimento... dovete... tipo fare ammenda per... cioè... ogni volta che fate ammenda per qualcosa... e che magari avete avuto un pensiero impuro... e allora... il dio ti ha fatto colpire... cioè... letteralmente questo potrebbe dare adito... a un bot di invasati... chierici... che dai... alla fine fanno sempre allegria... ora... non fate cacacazzi... ma potreste fare allegria... poi... al secondo livello... impariamo... preghiera di invigorente... ad ogni ripolo lungo... durante un riposo breve... quindi... una volta al giorno... durante un riposo breve... quindi non lo fate in combattimento... il chiarico può entrare in uno stato di piegare... e recuperare una montagna di slot di incantesimo... pari a metà del suo livello... arrotondato per effetto... no... a parte che per difetto no... per... per eccesso... ehm... oddio... no... che l'ho imparato... sì... no... per difetto... no... per difetto... per difetto va bene... sennò poi... ne prende troppi... eh... tipo... al secondo livello... faccio un altro esempio... al secondo livello... potrete... riprendervi... uno slot incantesimo di primo... al quarto livello... potrete prendervi due incantesimi di primo... o uno di secondo... e così via... andando avanti... banalmente vi recuperate un po' di... ehm... slot incantesimi... che ripeto... schifo non fa... ehm... poi... al quinto livello... un'altra... abilità... da utilizzare... con il vostro incanalare divinità... che... ragazzi... a differenza di come hanno fatto per... lo so che... vado a finire lì... ma alla fine perché sono... simili come concetti... la differenza che faccio... concettualmente di questo... rispetto all'ispirazione bardica del bardo... è che... il bardo letteralmente ha... effetti diversi... tutti estremamente utili... ehm... che si vanno a sommare... nonostante gli utilizzi sono sempre quelli... quello che ho messo qui è... semplicemente... ha il solito più o meno utilizzo... semplicemente è... invece di lanciare un'aurea... ad cazzo... che non serve... magari puoi... scegliere se... focalizzarlo su un nemico... o su un alleato... nel caso ti sia più utile... ehm... ottenere quel risultato... su un alleato... su... o su un nemico... ma poi fondamentalmente... fa più o meno... la stessa cosa... solo in modo... ripeto... più focalizzato... perché appunto... ehm... siccome il primo è... solo... un'ondata generale... che... ehm... prende così... ad cazzo... tra virgolette... cioè... prende ad aria e basta... questo è molto più focalizzato... quindi è... più forte... preso singolarmente... ma appunto è... singolarmente... infatti... quindi il livello... ottieni ristoro... quindi quando utilizzi... il canale di divinità... come azione standard... puoi curare... quindi non è... ehm... ehm... non è... appunto... punti ferita temporanei... ma è... una cura... vera e propria... di un ammontare totale... di punti ferita... pari a quattro volte... il livello d'archerico... esempio... al quinto livello... curi un totale... di venti punti ferita... da distribuire... ai tuoi alleati... quindi... per... cioè... perde la facoltà... di... rompere coglioni e nemici... ma... in canale... appunto... la tua... la parte... diciamo... lenitiva... della tua divinità... per... concentrarti... sui tuoi alleati... quindi... banalmente... curi... in modo molto più efficace... i tuoi alleati... quindi... invece di... curarli... pari... a una volta... ai... punti ferita... temporanei... che vi ricordo... punti ferita... temporanei... a riposo lungo... o ai riposi brevi... se vedemmio... ehm... qui... sono proprio... è proprio una cura... avrete una... pool... pari a quattro volte... il vostro livello... ma è una cura... in... oltretutto... se... visto che... almeno così... non la buttate d'eccesso... in stile... ehm... in posizione delle mani... del... del paladino... per così dire... tra virgolette... se... questa cura... supera il... punteggio massimo... dei punti ferita... del bersaglio... allora... quello in più... diventano punti ferita... temporanei... ciò vuol dire... tipo al quarto livello... avete venti punti ferita... siete con altri tre alleati... banalmente potete decidere... due alleati... perché non ne hanno bisogno... non gli dai un cazzo... dai tutti e venti... su... ehm... un tuo alleato... se questo aveva bisogno di... solo cinque punti ferita... da recuperare... li li ricuri... quei cinque... più gli dai altri... quindici punti ferita... temporanei... ed ecco perché... continuo ad avergli dato... questi valori al giorno... giusto per informazione... al settimo livello... o... se no... banalmente quei venti punti... potreste darne appunto... cinque a uno... cinque all'altro... e gli altri dieci al terzo... per dire... ehm... al settimo livello... avete... incanalare divinità... giudizio... quindi il Chiarico... come azione standard... può utilizzare un suo... incanalare divinità... per infligere... a montare i danni radiosi... su una creatura... una... sola creatura... che si trovi... entro 18 metri da lui... che sia in grado di vedere... pari al doppio... del suo livello... da Chiarico... più il modificatore di saggezza... letteralmente... a differenza di prima... che fa... solo il livello... più saggezza... qui... vi fa... il doppio del danno... e... in aggiunta... ehm... la creatura... deve superare un tiro salvezza... su costituzione... può essere... paralizzata... alla fine... del turno successivo... se il... tiro... ha... successo... ehm... subisce... svantaggio... al svantaggio... svantaggio... se no... rimane svantaggio... ai... tiri... per colpire... fino... alla... fine... nel... suo... successivo... quindi... ripeto... subirà... una... una creatura... invece che tutti... banalmente... ci avete conto... un avversario solo... non ha senso fare quello a spread... lo fai solo di lui... o banalmente... avete... hai più bisogno... che quello... rimanga fermo... appunto... mini su di lui... li fai il doppio del tuo danno... in questo caso sono... metti che hai... appunto... un 16 a saggezza... al settimo livello... sono... ehm... 14... sono 17 danni radiosi... che comunque... ragazzi... al settimo livello... su una bella boccia... in più... se parisce il periodo di costituzione... è paralizzato... paralizzato... vuol dire che lui... non può fare nessuna azione... quindi comunque... rimane fermo... per un turno... e se comunque... supera il tiro salvezza... ha comunque svantaggio... ai tiri per colpire... e risottolineo... del perché... ne ha due al giorno... cioè... ne ha tre... ora ne ha tre... perché se no... banalmente... ci brasi... l'acqua lunga... ehm... poi... al decimo livello... hai un attacco extra divino... ovvero... il chiarico... come parte del suo attacco standard... può utilizzare un trucchetto... quindi... banalmente... potreste tirare un colpo... e lanciare fiamma sacra... e l'alternativa... può lanciare... sempre... come parte del suo attacco standard... parola guaritrice... e cura ferite... quindi... banalmente... voi... visto che... parola guaritrice... è... ehm... anche durante il vostro turno standard... utilizzandolo due volte... poi avete un doppio cura... a parte che a quel punto... cura ferite... fate prima... però... ehm... al dodicesimo... movimento divino... ottiene come opzione di movimento... può creare le aree... e volare alla metà del suo movimento standard... e rimanere in volo... ehm... alla fine di tale movimento... se il chiarico diventa incapacitato... mentre in volo... cade a terra bruscamente... cioè... precipita... ehm... banalmente... incominciate a... assuggere al vostro... al vostro effetto avatar divino... al sedicesimo... incanalare divinità migliorato... il chiarico ogni volta che lancia iniziativa... ottiene... un utilizzo di incanalare divinità... nel caso... non ne avesse... quindi... ehm... oddio... però incomincio a farmi due conti... non so se sono troppi però... i danni e le cure che fa... perché ora va bene va bene... ma c'è anche gli incantesimi... quindi... in realtà... nota... mi sa che sia... non so se non è... pari a... metà... metà... al livello del chiarico... ma... non è... sa il danno radioso... pari a il suo livello ok quindi qui invece che essere quattro volte lo metto a 2 pari al equipare al suo livello di mezzo tutto perché almeno qui banalmente curi di cioè qui a un nemico singolo li fai 7 più 3 10 danni in più lo paralizzi a differenza di 37 quindi comunque li fai metà o non ci metto direttamente il modificatore di servizio oddio realtà no così lo tene buono anche i primi perché qui per esempio rotondato per difetto al primo livello sarebbero 0 farebbe appunto danno pari alla saggezza quindi sarebbe 3 farebbe 30 anni ci sta a posto dei quattro di prima perché c'è un livello in più quindi comunque a lungo andare al massimo di livelli invece di farne 25 ne fa 15 che già un po più plausibile mentre qui al massimo appunto su un nemico unico viene fa appunto 25 che oddio diventa già una bella boccia poi vabbè la presta divino che appunto può fa quella solita poi movimento divino in canale di verità ha migliorato quindi chiede ogni volta che la c'è iniziativa letteralmente all'inizio di ogni incontro almeno un in canale divinità solo chapa poi c'è il ristoro migliorato quindi quando utilizza di store come fatto in canale divinità dona un di sé danni da dio sul prossimo attacco che l'area tra più giorni mito se il nemico colpito colpito dall'alleato non morto e danni radiosi aumentano a due di sé comunque quella nota di odio i non morti lasciamo gliela poi al 18 giudizio finale quando utilizzi giudizio come canale divinità può colpire un numero di nemici pare al suo bonus di competenza quindi fino a un totale di sei creature quindi banalmente al 19 appunto ai avatar divino quindi ottiene l'immunità e danni radiosi e ottiene una velocità di volo pare alla solistà di movimento inoltre può lanciare incantesimo guida senza nessuna restrizione di sorte dando così era un alleato ha portato un bonus di 4 alle abilità lanciate banalmente ct cioè letteralmente hanno torto perché per chi non lo sapesse nella nuova edizione di dungeon drag quando vendì hanno messo appunto che l'incantesimo guida invece di essere letteralmente dove spammato ad ogni tiro di abilità dei tre alleati adesso quando lo lanci su uno di loro non puoi rilanciarlo finché esso non fa un riposo lungo quindi banalmente lo fai solo quando serve alla fine era un trucchetto non era un incantesimo con slot e quindi a un senso sono semplicemente era un incantesimo praticamente che dove spammare all'infinito e prendeva completamente di senso l'ispirazione battica del bardo alla fine ok barda arriva a darti un di 12 ma te ne dà una volta quello c'è il che lo trova ad cazzo un d4 ok non è proprio il massimo della vita vero mai sempre un d4 poi detto questo appunto qui finisce il chierico ripeto sono ancora un po indeciso sui valori c'è voglio sempre che si basi sul livello del chierico dell'incanare divinità secondo me messo così è comunque forte ma non è non è così forte secondo me cioè non è così over power al primo livello ripeto dai un valore di tre punti ferita temporanea tu hai leati e fai tre danni ad aria per due volte al giorno non è così fuori di testa a differenza di prima che comunque erano già quattro ma più che ovviamente numeri piccoli questa differenza conta poco ai numeri grandi cioè passare da 15 a 25 danni già o se no prendiamo al la fascia massima delle avventure quindi al quindicesimo livello passi da appunto fare 19 danni al farne 11 cioè ne fai quasi la metà quindi comunque ci sta detto questo ripeto mi sembra abbastanza utile ho voluto togliere quella schifezza del appunto nello scacciare non morti perché spesso volentieri veniva poco usata perché molto meccanica molto casinato su se stesso che poi anche col distruggere non morti diventava ancora peggio che banalmente veniva utilizzato poco ora è vero che nove volte su dieci in una campagna il pezzo con non morti c'è comunque e chiarico è lì fa ok per il potere di graceful lasciate fare a me ma a parte che il chiarico alla peggio roba che fa male ai non morti di suo ma poi se notate effettivamente tutti i danni che li faccio fare sono danni radiosi che non morto nove volte su dieci sono danni doppi perché sono vulnerabili ai danni radiosi quindi comunque questo io ho lasciato poi ripeto siccome sono dell'idea che è appunto un incanare divinità sì ma se quella di quella è la divinità dei morti cioè dei non morti o una divinità che dei non morti viene può fregare meno tipo la divinità della legge quale leggi impedisce a un non morto di essere un morto nessuna fino a prova contare se non morto non rompe il cazzo a nessuno cioè o la divinità dell'agricoltura se non mi viene a cacare il cazzo dei campi per me può essere non morto quanto ti pare cioè anche la palude anche una palude è comunque natura quindi ripeto sì se è un po' un aberrazione della vita vero ma non per questo una divinità deve comunque averti come nemico prescelto non è non è vero cioè anzi ha più senso male che ce l'abbia con demoni e diavoli che sono letteralmente sulla fascia sotto dei piani esistenza per chi non lo sapesse i piani nella cosmologia di dungeons e dragon è pensate abbia nel centro con il piano materiale vero il mondo di gioco poi pensate emisfero superiore con tutto lo spettro delle divinità tutte tutte spettro dei regni celesti la il mezzo la mezza invece il mezzo cerchio sotto sono tutte tutto l'esperto degli abissi degli inferi cioè tutta la gente brutta e cattiva e poi oltre questo secondo cerchio c'è il piano astrale con praticamente lo spazio infinito dove c'è la roba di ctulù e così via di tutto se esatto dove c'è tutto il resto poi c'è altri spazi in mezzo ma quelli lasciamo pensi sono cosa parte tutto per farvi capire che ha più senso che le divinità ce l'abbiano con creature tipo demoni e diavoli piuttosto che i non morti cioè nel senso ha più senso sembrano letteralmente i loro opposti eppure tutti ce l'hanno con un morti ad cazzo detto questo ripeto spero che questo vi sia piaciuto come al solito io vi ricordo che ogni contenuto creato nelle live di my one dnd che lo stiate vedendo qui su twist che le state vedendo sul nostro umanimo canale youtube a parte che se venite a vederlo in live almeno così si può creare insieme poterà direttamente il vostro feedback in presa diretta ogni materiale che viene creato in questa serie lo potete trovare sul nostro canale telegram fratelli di gamepad tg attaccato fratelli di gamepad tg dove appunto ogni volta ogni giorno in cui faccio my one dnd posto alla fine della live il documento o se state guardando questo contenuto dal nostro canale youtube lo trovate nelle info del video cioè descrizione è lì se non riuscite comunque non avete voglia potete comunque recuperare questa cosa bastando abbasta mandare santi privato in uno dei vari social che abbiamo e io banalmente vi rindirizzo al al pdf opportuno detto questo ringrazio tutti coloro che sono stati presenti in questa live chiunque guarderà questo video se vi è piaciuto lasciate su like un commento condividete fatelo girare magari arriva wizard che magari imparano altre cose detto questo ragazzi grazie ancora e vi aspetto stasera dalle 20 alle 22 con immortal felix price grazie a tutti ciao 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 ciao